Double buongiorno a tutti ragazzi, anzitutto mi scuso se in questo video sentirete dei rumori fastidiosi sottofondo, tenterò di sopprimerli come posso ma di fuori c'è il cantiere a cielo aperto in strada, quindi o non facevo proprio il video oppure ve lo facevo così, però era tanto che non ci sentivamo con una cosa che non fosse un ricaricamento, eh? Visto che Checkpoint sta andando anche bene, sono molto molto contento che questo format, se lo curo, prenda forma, appunto, e sono molto contento dei risultati che sta avendo, quindi non mollerò assolutamente, mi fa piacere che lo state seguendo, vi ricordo che è ogni venerdì alle 18 sul mio canale Twitch, da cui poi discendono delle clip che vengono caricate qui su YouTunes, presto anche l'episodio completo, ovviamente su TPG Archives. Cari fratelli e sorelle, se fosse una messa comincerei così, siamo qui riuniti di nuovo per parlare dei fallimenti e dei sotterfugi del metaverso, che qualcuno come me deve pur scoperchiare, era una notizia che ho letto in realtà già tanti giorni fa, ma per vari vicissitudini, principalmente il fatto che c'erano cose più importanti da trattare, ho rimandato, però un discorso che ho detto, un giorno lo farò, ecco il giorno è arrivato. Diciamo che abbiamo già spiegato tipo in 150 video diversi che il metaverso no, non funziona, però è un'ennesima riprova, anche molto molto interessante per capire come funzionano determinate cose, che devo dirvi perché LEGO Fortnite nasconde un grande segreto dietro il suo successo, e spero che oggi lo scoprirete insieme a me, ma probabilmente lo sapete già tutti perché inconsciamente l'avete già sfruttato in questo modo, però è il momento di mettere magari qualche ragionamento sul piatto. Prima di cominciare, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare like, per favore ragazzi, cioè lo so che volete che faccia sempre una scenata per il like, cioè ve lo giuro, vi voglio tanto bene se lo mettete, però non mi fate impazzire, cioè mi, dai, click, è sempre, click, dai, clicca no, cioè fa, dai, gra, gra, bravo, bravo, bravo. Vi ricordo il codice creatore Lelix per fare le vostre scioppate remixose in questo periodo in cui usciranno veramente tante tante skin, e soprattutto la map per livellare nel caso ce ne fosse bisogno, ma che hanno ripristinato, anche questa è una notizia che volevo darvi, ragazzi, dopo il nostro video sfogo, chiamiamolo così, Epic l'ha ripristinata, non ovviamente grazie al video sfogo, ma grazie al fatto che abbiamo rifatto la mappa, e boh, insomma, ora da pur XP l'abbiamo ricalibrata, insomma, sì, ok, il peggio è passato tra virgolette, ma non risolve tutti i problemi di cui ho parlato, in quel video, quindi se volete sapere perché il dbg su non esce con grande frequenza, e perché ho problemi a livello di creazione map, recuperate quel video nel caso ve lo siate persi. Come? Vi consiglio di recuperarvi, scusate, oggi è una lista della spesa, prometto che partiamo subito, il primo episodio di Kindle Art, non terzo, ma primo, che dopo due anni che me l'avete chiesto, l'ho portato ieri in live, e stranamente, c'avevo 150 milioni di pregiudizi, mi è piaciuto, trovate il VOD su dbgarchives e alle 18, il secondo episodio in live su Twitch, basta, Lele, basta, con lo spam ti prego, andiamo subito all'argomento del video. Allora, Rocket Racing è muerto, nel senso che abbiamo visto in questi giorni, soprattutto con l'uscita di Remix, che ha dato effettivamente il colpo finale, più ovviamente l'annuncio di Epic stessa, che ha detto noi di mappe e in generale di novità, non ve ne daremo più, salvo magari qualche cosmetico, eccetera, ecco, Rocket Racing è morto, primo fallimento del metaverso. Se, dall'altra parte, possiamo dire che Festival, con numeri molto piccoli, ha trovato una sua dimensione nel suo fattore collaborazioni, che in un gioco musicale ovviamente funziona molto bene, nel senso che, ovviamente, le persone vogliono suonare musica su licenza, quindi capite che, rispetto all'obiettivo di collaborazione di Fortnite, questo funziona molto bene. Sappiamo inoltre, ed è già successo, che i pass si sono trasformati, presto Epic renderà anche disponibili chitarre e varie oggettistiche disponibili anche in BR come strumenti utilizzabili in senso di picconi o zaini, quindi è una cosa ottima questa. Per cui è ovvio che non possiamo dire, wow, Festival è il nuovo guitar hero a cui stanno giocando tutti, però è sempre stato un genere di nicchia. Rocket Racing morto, c'è un elemento che sempre viene chiamato in causa quando si prova a difendere il metaverso, dicendo Eh, però, Lego tutto sommato tira Lele, Lego sta tirando a bestia, se vedi. Non lo so, ora ne parliamo. Però, prima di andare a parlare proprio di Lego nello specifico, se Epic credesse tanto nel metaverso al di fuori delle parole del SEO, che dice sempre che il metaverso è una cosa bella, Secondo voi, perché ultimamente hanno fatto tutti questi cambiamenti alla Battle Royale? Ovvero, perché le collaborazioni vanno messe per forza in BR, prima stagione Marvel, poi tutti questi cantanti che hanno inquinato, si può usare questa parola, la modalità remix? E se non bastasse, nonostante vi ho detto sì, arriveranno nuove modalità metaverso col capitolo 6, qual è la notizia che sta facendo parlare tutti in questo momento riguardo il capitolo 6? Non il tema della stagione, su cui magari andremo a fare un approfondimento più avanti, ma lo sapete tutti, l'abbiamo già discusso, il ritorno dell'OG permanente. Cioè, qual è il modo con cui Epic è sicura di agganciare videogiocatori alla sua piattaforma? Tramite l'ennesima modalità sconvolgente e funzionantissima? Tramite quelle vecchie che aveva già giunto, già aggiornate? No, perché Rocket è morto per dire qual è riprendere la cara vecchia Battle Royale, nella salsa addirittura più pura e neanche in quella del capitolo 6, e il tentativo ovviamente di monopolizzare i giocatori. Quindi, se da una parte Epic può anche, diciamo, aprendo la bocca, dire il metaverso è una figata, ma poi dopo nei fatti, lo sforzo produttivo, oltre quello imposto dalle aziende con cui collaborano, ovviamente Disney devono farlo, no? Per dire, va tutto verso delle modalità che sono assolutamente, come posso dire, incentrate su quello che gli sviluppatori sanno bene funzionare, con ovviamente anche, se vogliamo, questo discorso l'abbiamo già affrontato, un rischio perché c'è un po' di pigrizia di sviluppo nel ricicciare le cose, quanto poi durerà, questi sono discorsi che abbiamo già affrontato. Ecco, diciamo che neanche gli sviluppatori sembrano avere un grande piano, no? Per il metaverso, se non, ripeto, quella speranza che prima o poi è una match aparta e in qualche modo tutti inizieranno a giocare a Fortnite o metaverse Fortnite, diciamo così, per una modalità metaverso che spaccherà. Per ora non ne sono uscite, ma Epic pare continuerà a provare. A tutto questo, no, c'è sempre il jolly che si affianca nel momento in cui uno deve difendere Fortnite a spada tratta che dice, è vero, però Lego non è andato così male. Allora, anzitutto relativizziamo l'essere andato bene, perché ovviamente Lego è stata la modalità più di impatto al lancio di tutte quelle proposte dopo che furono pubblicizzate dall'evento Big Bang, ma non è che la curva parabolica che ha avuto sia stata meno terrificante di quella di altre modalità. Cioè, lo shock iniziale per qualsiasi player di Fortnite è stato provarlo, capire che era la alfa di un gioco vero, come tutte le altre, Rocket compreso, e da quel momento in poi far scendere i player. Da quel punto di vista poi c'è stata, diciamo, una grande attrattiva per due ragioni. Uno, molti, molti più aggiornamenti di sostanza, cosa che fa piacere, anche se attualmente quella modalità non trova veramente, potremmo dire, un modo per sbocciare, considerando che la maggior parte dei cosmetici a pagamento riguarda la personalizzazione che dovrebbe essere l'endgame in realtà della modalità stessa, cioè la possibilità di, diciamo, craftarti il villaggio nella maniera che tu ritieni più consona a livello di stile. Se questa cosa è loccata all'interno di set anche parecchio costosi, quella meccanica che in teoria dovrebbe portarti a giocare ancora di più una volta che il villaggio è finito va un pochino in tilt. Dall'altra parte ci si chiede quali potrebbero essere modalità efficienti per monetizzare su Lego, a me veniva in mente semplicemente farti shoppare proprio il modellino Lego di una skin che possiedi, tipo se vuoi avere pesce secco Lego devi pagare, che ne so, 100 V-Buck per avere anche la versione Lego, secondo me ci poteva stare, piuttosto che i set che sono abbastanza un po', boh, non lo so, non mi convincono. Il fatto sta che tante volte si dice, beh, comunque Lego mantiene un rate di player abbastanza significativo, interessante comunque, no, che può essere un numero buono, soprattutto se tu vai a vedere magari le classifiche di Steam, vedi dei giochi che hanno 30.000 player che comunque vengono ritenuti di un buon livello con un buon numero di giocatori, quando vedi quei picchi magari che ha Lego di 50.000, soprattutto magari all'inizio della stagione, fai tipo wow, è veramente tanta roba. Però effettivamente secondo me va relativizzato un punto e voglio portarvi un po' di statistiche che ha dato Fire Monkey, dopodiché facciamo un ragionamento ritroso. All'uscita di Fortnite Remix, Lego aveva un XP che era, fondamentalmente potremmo dire, nonostante ha dosi migliori di tutte le modalità disponibili, perché viene assegnato ogni 10 minuti, il che è anche ragionevole da un certo punto di vista, nel senso che non avendo degli encomi sbloccabili, non è che aprendo la cassa fai i pie, ok, come su Battaglia Reale, era il boost, diciamo, più significativo. Ma comunque, tolto questo, Lego in quel momento era battuto da reload per quanto riguarda l'efficienza degli XP farmabili, ok? Che cosa è successo esattamente un giorno dopo quel bilanciamento? Il Lego Fortnite XP è stato baffato. Si è passati dal 38k XP al 51k ogni 10 minuti, che si traducono in 150 minuti farmabili, H765.000 XP ogni giorno. Se noi quindi scendiamo di sotto ed andiamo a confrontare rispetto alle altre modalità quali sono i cap, come ad esempio quello della creativa, per dire che comunque non garantisce ogni tot minuti XP di quel tipo, semplicemente devi giocare, devi farmare tu stesso ed è molto più dispendioso a livello di tempo, Lego è, era prima molto molto buono, ma lo è sempre stato molto molto buono, ora è stato reso il pick. Quindi per capire dove vuole andare il mio ragionamento, eccoci qua. Io sono un player che arriva tardi all'interno di questa stagione remix, molto tardi, no? Ok? Quindi potrebbe non finire il pass battaglia. Quale attività preferirà fare per guadagnare un sacco di esperienza? La migliore. Qual è la migliore? Ops, una collab. Strano. Quindi che cosa sta succedendo? Fondamentalmente, la modalità Fortnite Lego è insufficiente dal punto di vista dei contenuti. Come facciamo a renderla artificialmente giocata così che abbiamo due vantaggi? Uno, Lego penserà che abbiamo fatto un buon lavoro, perché se ci giocano tanti player nel corso del tempo significa che la modalità è molto buona. Due, se all'occhio esterno viene percepito che le modalità metaverso funzionano, allora tante persone, la Disney è stata quella che è stata convinta dopo Lego, e magari tanti altre aziende, no? Dopo di essa verranno a darci i loro soldi, perché probabilmente sanno che Fortnite sa valorizzare le esperienze che crea. E il problema è che un occhio attento, perché magari, raga, lo sapete, gli investitori non è che necessariamente sono player, un occhio attento va a vedere e scopri che la motivazione principale, primigenia, per cui una modalità giocata, è semplicemente che dà più esperienza, cioè è la più efficiente. Tanto che, vi ricorderete che per lunghissimo tempo, Lego Fortnite è stato il posto dove si farmava FK, con tutti i glitch, no? Che sono conosciuti, probabilmente è arrivata una segnalazione interna che ha detto, eh, però è un po' un danno d'immagine far percepire alle persone che, se stai fermo, non devi neanche giocare guadagni esperienza, perché magari, appunto, Lego o qualsiasi investitore vorrebbe che la modalità sia giocata as intended, diciamo così. Allora, ok, non c'è problema, la baffiamo completamente in maniera esagerata rispetto a tutto, cosicché diventi un posto dove i player possono farmare. Ora, io la conclusione la lascio a voi nei commenti, nel senso che non voglio dire quello che sto per dire, perché non voglio passare problemi con nessuno, magari ci sono dei legali che potrebbero arrabbiarsi, però, davanti a una situazione che è un'evidenza, cioè io sto solo mostrando dei dati di gioco, secondo voi, cioè, capite il messaggio di fondo che io sto dicendo, giusto? Non serve che ve lo dica anche a voi. Devo solo sperare che Lego sia consapevole di come il suo gioco viene baffato, piuttosto che con aggiornamenti che siano coinvolgenti per i giocatori, vi ricorderete quel dialogo tragico in cui Hoppe nominava la colombacca solo sperando che qualcuno andasse a giocare a Lego, e soprattutto spero che anche altri investitori abbiano un occhio più attento. Però, capite che sono quelle dinamiche invisibili che sanno solo i player dentro, molto difficile che un'azienda esterna possa sapere determinate cose. Così come, no, quando abbiamo fatto, se vi ricordate, sempre su Checkpoint, per tornare a quello, l'analisi del video di Player Inside dove parlavano di Fortnite, loro, da una prospettiva esterna che è normalissima da persone che non seguono il gioco, credevano che il picco di giocatori Fortnite l'avesse raggiunto l'altro pomeriggio, e invece si trattava di dati riferiti ovviamente all'OG scorsa, con l'evento OG scorso, con ovviamente il gioco che poi per tutto l'anno in realtà era calato. Però questo ragionamento ovviamente, chi non segue il gioco, non è colpa loro, non lo possono fare. Allo stesso modo, puoi tu da investitore esterno sapere perché Lego è così giocata, supporrai in buonissima fede, ma sì, verrà giocata perché Epic sa fare molto bene le modalità, sono divertenti, i player, anche se quella è la modalità, diciamo, secondaria, perché la gente in teoria dovrebbe venire a giocare i BR, si affezionano e sanno provare esperienze diverse. Sì, la verità è un po' cruda, nel senso che ti danno questi mangimi, quindi io ricordo ancora, no? Fortnite ha il fetish di Roblox, sì, ma Roblox non ha un battle pass, cioè gli utenti vanno a giocare le esperienze. Perché gli va? Sono piccoli, hanno due neuroni in testa e non sanno gli altri videogiochi? Ok, ma il modello si basa su quello, come monetizza, sulle carte, lasciate un po' il vento dei genitori sugli iPad, sul fatto che la ludopatia è un fattore all'interno di quei giochi lì, soprattutto le slot interne alle mappe, le microtransazioni forzatissime. Fortnite non ha voluto nulla di tutto questo, che sono cash sonanti e gli fa onore, ma dall'altra parte appunto poi quel modello di business che si regge proprio su questo equivoco, non regge, quindi come aggiustiamo il tiro? Venite aziende da noi perché siamo puliti, ma poi di fatto tutto si regge su dei buff un pochino sospetti, non utilizzerò parole in più rispetto a questa per poter rendere il metaverso un luogo ideale per tutte le persone che vorranno parteciparvi. Voi avevate notato questa cosa, ma soprattutto vi chiedo come avete usato l'ego negli ultimi sei mesi, l'avete usato proprio come ho detto io, cioè come un luogo dove dico mi va di giocare, oppure come la realtà credo sia, beh si fa esperienza, due minuti ce li butto, poi c'è gente come me che neanche lo accende perché dell'esperienza se ne frega o la fa in altri modi, però volevo darvi questo dato che secondo me ci fa riflettere. Ovviamente, ripeto, io non posso dire determinate cose perché è un problema se le dico, però credo che la conclusione, se siete bravi, la scrivete qui nei commenti e siamo tutti a posto. Grazie ragazzi, ci vediamo al prossimo video e a stasera con Kindon Art. Aiuto, Kindon Art. Non il terzo, come dicevano al TG, il primo. Ciao. 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 Grazie a tutti.